Tra saldi e rincari l'hanno iniziato nel segno della contraddizione finanziaria. La crisi che incalza e i consumi che arrancano inducono gli Irpini a ricorrere al risparmio sicuro perché il futuro è sempre più precario e non si sa mai. Pertanto è scattato il countdown per la corsa ai saldi e lo slalom per trovare il distributore di carburanti più conveniente. La crisi aguzza l'ingegno e la proverbiale arte italiana di arrangiarsi per dribblare aumenti e stangate varie. Quanto è costato fare il pieno? Costato 20 euro. No, no, il pieno. 20 euro abbiamo messo 11 litri. Appunto, non conviene più fare il pieno. Non conviene fare il pieno. A te benzina o diesel? Benzina. E la benzina è arrivata alle stelle? Sì, sì, sì. 1,724. Bravissima. Quanto vi costa fare il pieno? Eh, quanto mi costa? 50 euro, 100. Un salasso? Eh, sì. Così non si può più andare avanti, vero? Eh, così sì, non si può andare avanti. Anche perché lei è un pensionato, i soldi della pensione sono pochi. Eh, sono pochi sì. Ci hanno aumentato, ci hanno fatto campare. Alberto Scaperrotto, odli muoversi, sta diventando un'impresa. I prezzi dei carburanti sono saliti alle stelle? Sì, sì, proprio alle stelle, il massimo. Io che sono al campo delle macchine, in virtù all'aumento del gasolio, le vendite sono diventate da oltre il 50%. Tutto aumenta? Sì, sì, tutto aumenta. Oggi stanno aumentando anche le tasse automobilistiche. Noi come ACI stamattina non riusciamo ancora a pagare le tasse perché la regione ha mandato il comunicato che aumenta le tasse del 10%, però ancora non ha aggiornato il computer e le persone vanno avanti e indietro per pagare. In sostanza stiamo entrando nel pieno della crisi? Il massimo, sì, ne sono convinto, sì. C'è una crisi che fa paura, sì. È stato un Natale di crisi per il settore dell'abbigliamento, signor Gigi? Ma un Natale, secondo me, che poteva andare senza dubbio meglio, però la crisi che si è ascoltata, ecco, anche dai vari media che ci hanno martellato con queste notizie riguardanti proprio questa benedetta crisi e la gente comunque ha avuto un attimino di timore di spendere qualcosina in più, magari rispetto pure agli anni passati. Speriamo che con questi saldi si ripigli un attimino tutto ciò che magari si è perso, però dico che secondo me non è, come voglio dire, acqua che può togliere sete. È un qualche cosa che può farci ripigliare anche, come devo dire, economicamente con le casse. I saldi, secondo lei, sono veramente un'occasione o un blef? No, un blef sicuramente no, basta andare nei negozi giusti, nei negozi di fiducia dove la gente ha speso nei mesi passati, dove si è conosciuto il prodotto e pure i prezzi. La crisi si è sentita? Sì, abbastanza. La gente richiede degli sconti anche prima dei saldi, quindi nonostante i prezzi siano abbastanza bassi. Prezzi calmierati, però la gente spende poco e ha intenzione di spendere ancora meno? Sì, penso proprio di sì, molto meno. La liquidità purtroppo non c'è. Adesso si aspettano i saldi, possono essere una boccata d'ossigeno per il settore? Sì, può essere una boccata d'ossigeno, diciamo, un po' per tutti. Le percentuali vanno da? Ma in questo negozio non si arriva al 50 in quanto i prezzi sono già bassissimi, sono prezzi da outlet, diciamo. Però diciamo in giro qui nella zona di Cardito vanno già dai 30 e 40. Signor Giovanni, come è andato questo Natale a livello di vendite? Ma diciamo che è andato discretamente bene, non possiamo tanto lamentarci, insomma, però... Rispetto agli altri anni? Beh, rispetto agli altri anni un piccolo calo c'è stato. La crisi sta influenzando i consumi? Penso sicuramente perché chiunque entrava, chiunque entrava non si parlava d'altro che della crisi. Lei ha già messo le vendite promozionali? Stanno per partire salvi? L'abbiamo fatto proprio per incentivare il cliente ad acquistare in un modo più facile, più tranquillo. Anche perché la vostra clientela è composta in prevalenza da giovani? Sicuramente sì, sicuramente sì. Dunque il giovane chiaramente non è che può permettersi più di tanto, anche perché poi il lavoro manca per i giovani. Per cui la possibilità economica si riduce all'umicino, insomma. Tantissimi aspettano i saldi, però ecco, non a caso, noi abbiamo tentato di anticipare gli scondi proprio per favorire l'acquisto già prima delle feste e di non aspettare, diciamo, i saldi.